Sì, a posto, ecco, c'è anche la voce, allora descrivi un movimento, descrivi un movimento? Sì, bella entrata in acqua, spinta con la gamba dietro, spinta sostenuta dal busto, in cui c'è il nostro corso, e non c'è il nostro corso. Questa è un corso, non c'è il nostro corso, non c'è il corso, in cui c'è un corso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Penso che faccio troppo intenso perché devi andare più lento. Più lento. Sei contro luce? E' bellissima la laguna. E' bellissima.